Ciao a tutti, quest'oggi vi mostrerò come costruire i personaggi di uno dei miei giochi preferiti di questi ultimi tempi, ovvero Among Us. Cominciamo con il mettere giù due blocchi di calcestruzzo, del colore che volete, in questo caso io userò il rosso. Poi dovremo fare tre diversi standardi. Usando un telaio, mettiamo uno standardo grigio chiaro, con due coloranti bianchi, per poi scegliere questa sfumatura, rimetterlo e scegliere la riga in diagonale. Rimettiamolo con tre coloranti del colore che abbiamo scelto all'inizio, nel mio caso rossi. Scegliamo la riga orizzontale, la metà inferiore e il contorno, così il nostro primo standardo è pronto. Per il secondo mettiamo uno del colore scelto, con colorante nero scegliamo la riga verticale. Ce ne serviranno due così. Per il terzo e ultimo mettiamo sempre uno standardo del colore scelto, con colorante nero. Scegliamo di colorare la metà sotto, rimettiamolo con due coloranti rossi. Scegliamo la sfumatura. E il contorno. Con questo abbiamo tutti e quattro gli standardi necessari. Mettiamone uno qui, il secondo qui, il terzo qui e l'ultimo qui su. Con questo il nostro personaggio di Among Us è finito. Su Minecraft potremo farli di tutti i colori che ci sono. Scrivete nei commenti qual è quello del vostro colore preferito che usate sempre. Il mio è l'arancione. Con questo è tutto, noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!